. Uomini e donne, Alex Migliorini non lo sceglie, le parole del tronista Wing Zuiden. Claudio Merangolo è pronto ad andare incontro al suo destino nella nuova puntata di Uomini e donne e del trono classico con la scelta di Alex Migliorini, cosa succederà?. Il fatidico momento della scelta è arrivato anche per Alex Migliorini e il primo che il tronista ha fatto entrare in studio è Claudio Merangolo. Non è purtroppo lui la scelta e sono queste le parole con le quali Alex glielo svela, sei stata la prima persona che mi ha capita in questo studio, la prima che mi ha fatto provare bellissime sensazioni. . Il nostro percorso è stato il più completo per co abbiamo riso, litigato e anche pianto. Ci siamo persi e ci siamo ritrovati. . Non ho mai messo in dubbio la tua sincerità, la mia testa mi porta verso di te per tanti motivi, soprattutto perché siamo molto simili, ma per una volta nella vita devo fare una scelta di pancia e di cuore e questo mi porta verso unaltra persona. . Voglio comunque che tu sappia che non ti ho mai preso in giro e che ti voglio tanto bene. Claudio lascia lo studio senza ribadire, mentre Gianni accusa il tronista per averlo baciato poco prima della scelta. La non scelta è lui. . Il recupero finale non è bastato ad Alex Migliorini per poter scegliere Claudio Merangolo. . Per settimane abbiamo pensato che la scelta del nuovo tronista gay di Uomini e Donne fosse proprio lui ma alla fine non sarà così e non è stato così. . Dopo quasi un mese dalla registrazione, oggi pomeriggio andrà in onda la scelta di Alex e anche la reazione di Claudio Merangolo quello che la stessa Maria De Filippi aveva pensato come sua sicura scelta. . . Proprio la scorsa settimana i due in esterna hanno avuto modo di chiarirsi e trovarsi bene insieme tanto che lo stesso tronista aveva finalmente fatto tornare il sorriso a Claudio e ai loro fan, finalmente è tornato il Claudio dei primi tempi, ma è davvero così? Sembra proprio che questo guizzo finale non servirà a molto dopo quello che abbiamo visto. . . La scelta di Alex e le parole di Claudio Merangolo. . Dal possibile primo bacio alla non scelta, laltalena di emozioni non è mancata per Claudio Merangolo in questi ultimi giorni a Uomini e Donne e se lesterna della scorsa settimana aveva avuto successo tanto che i due si erano riavvicinati molto tanto da sfiorare il bacio, oggi tutto si concluderà con la scelta di Alex che ricadrà su Alessandro con buona pace di tutti. . . Subito dopo la registrazione della puntata che vedremo oggi, Claudio Merangolo ha parlato di una bella esperienza ma si è detto sicuro di essere stato sempre se stesso, comunque siano andate le cose, a me stesso dico grazie per esser stato me dallinizio alla fine. . . Senza rimpianti, senza pentimenti. Ho fatto conoscere il bello e il pessimo. . .